Ciao cari amici, oggi è il venerdì 29 marzo e io vi saluto e condivido con voi questo video l'approfondimento della zona dell'operazione militare speciale. In questo video vi racconterò le ultime importanti notizie che provengono dalla prima linea della guerra tra la Russia e Ucraina. Innanzitutto cari amici la notizia più importante è che questa notte i russi hanno effettuato un altro pesantissimo bombardamento sul territorio di praticamente tutta l'Ucraina, hanno utilizzato tantissimi missili, è stato un bombardamento come quelli precedenti, un bombardamento congiunto, ci sono stati utilizzati diversi tipi di missili, i missili da crociera, i missili balistici, due tipi di missili personici sia Kenjal che nuovo Zercon modificato e inoltre sono stati utilizzati anche i droni, i droni Gerain 2 con le testate termobariche e anche i droni Gerain modificati con il motore reattivo. Le esplosioni sono state segnalate al mattino nella regione di Odessa, Stri, regione di Lviv, Kremenciuk, Mirgarad, Paltava, Shepetivka, Chmelnitski, in tutta la regione di Chmelnitski, anche nella città di Chmelnitski, Karastien, regione di Jitomer, Kaniv, regione di Cercassi, Dnepropetrovsk, Burshtin, regione di Ivano-Francovsk e in molti altri regioni. Le risorse ucraine riportano le notizie veramente drammatiche, ci sono dei video di risultati di queste esplosioni, ci sono già state affermazioni da parte di autorità ucraine, io tutti i particolari vi racconterò nel prossimo video più tardi. L'importante è che ormai possiamo dedurre che si tratta di una strategia normale per i russi, questo è un tipo dei bombardamenti che a quanto pare i russi ormai ripeteranno più volte, questa è ormai la loro strategia, loro hanno capito che sul territorio dell'Ucraina ormai non c'è un servizio di antiaerea che funziona in modo regolare, in grado di intercettare i missili e i droni lanciati dai russi e quindi loro utilizzano questa strategia che hanno stabilito circa più di un mese fa, se voi ricordate io in uno dei video passati vi ho raccontato di questa cambia di strategia dei bombardamenti da parte dei russi, come vi spiegavo in quel video a quanto pare la situazione effettivamente si sta sviluppando così come io avevo previsto, non è stato un caso se i russi hanno cambiato la strategia, semplicemente loro stavano sperimentando diversi modi di agire attraverso il bombardamento, loro cercavano di creare un modo di bombardare, un bombardamento congiunto più consono per riportare più distruzione possibile all'impianto di energia e anche sugli obiettivi importanti sul territorio dell'Ucraina senza però danneggiare troppi civili. A quanto pare hanno trovato questa strategia, questo metodo, le forze antiaeree ucraine non riescono ad abbattere i missili, quindi non c'è pericolo che i missili deviati colperanno le città e i palazzi civili e in pratica l'esercito ucraino è costretto semplicemente a cercare di nascondere quel poco che hanno da nascondere. I russi bombardano pesantemente. Il bombardamento di stanotte ha durato da 22 di ieri sera fino alle 7 di stamattina e i russi hanno lanciato, amici fate attenzione, 12 ondate di bombardamenti. Gli ultimi aerei sono alzati alle 6 del mattino per lanciare i missili sul territorio dell'Ucraina controllata da Kiev, quindi stiamo parlando di un bombardamento veramente pesante, di tutti i particolarità, anche di tutte le distruzioni enormi che i russi hanno fatto sul territorio dell'Ucraina. Questa notte vi racconterò nel video più tardi oggi, quindi fate attenzione perché ci sono tantissime cose interessanti, tantissimi particolari che sicuramente varie Mentana, vari propagandisti dei nazisti atlantisti non vi racconteranno mai. Tutti i pagati da oligarchi anglosassoni vi raccontano solo le balle sul fatto che i russi hanno finito missili, che combattono con le pale, che smontano i microchip delle lavatrici delle casalinghe ucraine. La realtà è diversa, la realtà è che i russi sono in grado di, purtroppo per gli ucraini e anche purtroppo per le occidentali che sostengono ucraini, i russi sono in grado di fare dei bombardamenti molto molto pesanti. Passando sulla linea di fronte non ci sono cambiamenti significativi nella situazione in direzione di Kherson, cari amici, le forze armate ucraine stanno continuando a colpire le infrastrutture russe civili, purtroppo sono state bombardate una stazione di servizio e una sottostazione elettrica a Kakhovka. L'esercito russo preme sulla riva destra, distruggendo con l'artilleria le posizioni dei militari ucraini e le vie della logistica ucraina. Io stamattina ho pubblicato anche un video fresco appena arrivato dalla zona di Krinki, dopo quasi due giorni di totale assenza del movimento sul fiume è apparso un gommone delle forze armate ucraine, un gruppo di militari ucraini ha tentato stamattina di attraversare il fiume per portare i viveri, le munizioni e anche per raggiungere i loro commilitoni sulla riva sinistra, i russi li hanno uccisi tutti. C'è il video dove i russi distruggono questo gommone, andate a vedere sul mio canale privato telegram, il link per abbonamento al canale io pubblico nella descrizione a questo video, andate ad abbonarvi e potete vedere tutta la realtà della guerra, tutto quello che a voi non raccontano vari propagandisti occidentali. La realtà è abbastanza triste per gli ucraini anche sul territorio di Krinki perché i russi continuano all'attività nella zona delle isole, dalla zona delle isole e anche dalla zona delle daci, i russi si stanno preparando probabilmente per attraversamento del fiume e ci sono bombardamenti pesantissimi da parte dell'artilleria e dell'aviazione russa sulla riva destra del fiume dove si trovano i militari ucraini. Sul fronte di Zaporozhye sono in corso le battaglie nelle zone di Rabotina e Verbavoie, ieri ho pubblicato sul mio canale privato telegram un rendiconto molto dettagliato da quella zona, in pratica lì l'esercito ucraino utilizza molti droni e munizioni di artilleria a grappolo che provengono dalle Stati Uniti d'America in tentativo di bloccare, di fermare l'avanzata dei russi. Gli ucraini cercano di trattenere i russi perché allo stesso tempo stanno preparando una seconda linea di difesa a Riechov, però qua bisogna dire che non hanno tanto tempo, quindi la qualità di questa linea di difesa ad Riechov, stessi ucraini, stessi militari ucraini che commentano nei social oppure anche in tv ucraina questa strategia di questa nuova linea, loro dicono che non hanno abbastanza tempo per preparare una linea efficace, poi si tratta comunque di una linea che si trova nelle zone che sono già in parte sotto il bombardamento dei russi, quindi loro dicono va bene, noi ci impegneremo, proveremo a preparare delle linee di difesa come Dio comanda, ma è molto complicato di fare i lavori quando sulla testa piovono le bombe da 250-500 kg e non c'è alcun tipo di copertura da parte delle forze aeree ucraine. A Novo Mikhailovka, cari amici a sud di Marinka, in pratica le forze armate russe stanno combattendo nel centro del villaggio, la lotta qui è per veramente ogni metro quadrato, per ogni casa, per ogni angolo, una lotta molto feroce, i russi hanno l'iniziativa, stanno spingendo gli ucraini fuori da Novo Mikhailovka, questa è una zona di fronte adesso molto accesa, molto importante, i russi stanno premendo e hanno superiorità nell'artilleria, quello che arriva da militari russi sono le notizie di uso dei tantissimi droni FPV da parte degli ucraini e i russi dicono che i droni sono veramente tanti, ma molti di questi droni sono di bassa qualità, quindi i russi riescono ad abbatterli, riescono ad abbassarli con i sistemi REB, ciò che si scopre è che si tratta di sempre più droni creati diciamo nelle officine da amatori, cioè non sono droni professionali militari, sono sempre più droni creati in 448 da persone che magari lo fanno come hobby, non si capisce, e i russi dicono che questo probabilmente è anche un segno che l'esercito ucraino inizia ad avere gravi problemi con la fornitura dei droni professionali. A ovest di Avdeevka, cari amici, continua l'assalto russo a Simeonovka, le truppe russe attaccano l'essediamento dal sud, i riparti ucraini all'interno della città cercano di usare sempre i droni, l'artilleria, soprattutto usano mortai da 120 e da 85, i russi usano anche l'artilleria, usano l'aviazione, stanno bombardando le retrovie e anche l'artilleria russa sta intervenendo per colpire le strade di logistica ucraina, in questo modo diciamo il contingente dei militari ucraini che si trova a Simeonovka viene tenuto senza rifornimenti e ovviamente la sua capacità combattiva diminuisce. In direzione di Ciassofiar, cari amici, le forze armate ucraine stanno contrattaccando vicino a Ivanovska e Krasne, disperatamente questa è tratta proprio di attacchi di carne come li chiamano stessi ucraini e anche i russi. A quanto pare l'esercito ucraino sta cercando di guadagnare tempo per rafforzare le forze ucraine a Ciassofiar, un importante centro di difesa che ci tiene a difendere più a lungo possibile. Attualmente ci sono battaglie accese a Bogdanovka e Klischevka, comunque da quello che ho letto stamattina nei rapporti che arrivano anche dal Ministero della Difesa russo, a Ivanovska e a Krasne, tutti questi contrattacchi non hanno alcun effetto. Nell'ultimo attacco i russi hanno distrutto nel tentativo di avvicinarsi alla zona difesa russa, i russi hanno distrutto sei BMP, cioè le macchine, i blindati corazzati cingolati ucraini con i militari all'interno. C'è stato veramente un fole massacro di personale e i russi stessi dicono che questi poveretti vanno all'assalto senza alcuna copertura, senza avere una decente copertura di artilleria, con nessun tipo di copertura dall'aria. Unica cosa che loro ancora sono in grado di utilizzare sono i droni e ovviamente con questo tipo di sostegno nessun assalto può essere qualitativo, quindi i russi li distruggono in fase di avvicinamento utilizzando artilleria, utilizzando i sistemi PTRK, utilizzando i razzi reattivi guidati anticarro. Ci sono delle immagini, sono abbastanza drastici, io ho condiviso due filmati da quella direzione, si tratta di un vero massacro di soldati che vengono mandati alla morte sicura. qui uno anche senza ovviamente diciamo un pensiero speculativo comunque inizia a riflettere sul fatto che i militari ucraini assumono qualche sostanza perché è impossibile, non si può spiegare come gli uomini normali, lucidi, nello stato psicofisico normale possono andare e morire così inutilmente, nelle operazioni così inutili e che non producono nessun tipo di effetto. Io dal punto di vista militare non so come spiegarlo, per me l'esplicazione solo due, o questa gente è indottrinata a tal punto che ormai non ci tiene alla propria vita, oppure sono drogati con qualcosa, perché un'altra ragione io non lo trovo, insomma. È una situazione abbastanza drammatica, quindi nella direzione di Cia Sofiar, comunque i russi hanno anche lì l'iniziativa, la cosa più importante è che l'artilleria russa piazzata al nord di Ivanovska e Krasne, dove cercano, nella direzione di questo luogo, cercano adesso di fare questa controffensiva ormai fallita agli ucraini. I russi lì hanno piazzato i loro obici e questi obici stanno veramente danneggiando la logistica a Cia Sofiar. Quindi cari amici, molto presto inizieremo a ascoltare le notizie su come i russi stanno avanzando a Cia Sofiar. Le forze armate ucraine continuano a bombardare la regione di Belgorod, purtroppo, cari amici, usano razzi reattivi non guidati e anche utilizzano i droni, sia FPV che UAV. Un civile è rimasto ferito, è stato segnalato a Nova Tavoljank, distretto urbano di Shebekensky, mentre di notte 15 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Belgorod. Il governatore regionale ha segnalato danni a edifici residenziali e automobili a seguito di attacco dei droni notturno. Nella regione di Kursk le forze armate ucraine hanno bombardato Kravajakovka e Tiotkina, distrezione di Glushkovski nella regione di Donetsk, nella città di Donetsk e anche nel villaggio Staramlinovka che si trova nel distretto di Vilika-Navaselsky. Quattro civili purtroppo sono rimasti feriti, tra loro purtroppo anche un bambino. L'esercito ucraino bombarda e lancia il materiale esplosivo anche dai droni. Altro giorno ho condiviso un video in cui si vede come l'esercito ucraino sta lanciando ormai in disperazione perché questi non hanno abbastanza munizioni e droni. Tutto quello che le danno il loro partner occidentale lo usano per colpire più civili possibile perché a partire dal 2014 l'unica tattica funzionale dell'esercito ucraino che l'esercito ucraino può e continua a mettere in campo è la tattica del terrorismo. Loro non sono in grado di combattere come gli uomini, come i soldati contro l'esercito russo, però preferiscono agire da codardi e massacrare i civili. Lo fanno, sottolineo, dal 2014 le prime vittime, prime mamme con bambini massacrati nel parco di Donetsk oppure a Lugansk durante bombardamenti dei nazifascisti ucraini. Sono state prime vittime e da lì questa gentaglia non ha mai smesso di utilizzare questi metodi. Quindi adesso a questi loro metodi, con la carenza dei missili, con la carenza dei razzi reattivi, hanno aggiunto un nuovo metodo. Loro fanno dei palloncini come quelli meteorologici, li lanciano sul territorio russo e questi palloncini cadono ovviamente quando si esaurisce la loro risorsa di volo, cadono ovunque e cadendo precipita anche il loro carico. Loro sono carichi con piccole bombe, una bomba del genere ha il potere esplosivo che si avvicina un po' alla bomba a mano, come ad esempio la F1, la bomba a mano a frammentazione. La nota bomba a mano sovietica la chiamano anche limonka oppure a limone, oppure la chiamano anche ananas, che assomiglia al corpo diciamo dell'ananas. Questa bomba può creare comunque la morte, diciamo ferire diverse persone, può uccidere diverse persone se proprio cade nella vicinanza e ovviamente il fatto che gli ucraini mandano i palloncini a casaccio significa che questa ormai l'ennesima conferma che agli ucraini non ha importanza chi ammazzare, cioè questi ammazzano tutti, donne, bambini, cani, gatti, dove precipita una bomba non ha importanza, basta che crea un disagio e la morte sul territorio della Russia. Questo cari amici è per sottolineare con chi stanno combattendo i militari russi, con quale gentaglia, con quali criminali stanno combattendo i russi. Ormai loro ormai non nascondono la loro natura e se volete tra l'altro io sul mio canale privato Telegram ho condiviso le foto, i materiali, le conferme di questo ultimo caso del lancio di questi palloncini. Ci sono diversi che sono rimasti impigliati tra i rami degli alberi, per fortuna non sono esplosi, alcuni invece sono caduti in varie zone, sono esplosi, però per fortuna per adesso non hanno causato nessuna vittima tra i civili, però comunque si tratta di ordini che sono arrivati fino ai parchi comunali, fino alle zone residenziali, quindi prima o poi un'arma del genere sicuramente danneggerà oppure ahimè ucciderà qualcuno e questa è una cosa ovviamente che rappresenta l'ennesimo crimine del regime di Zelensky, del regime nazifascista di Kiev e io vi invito di fare abbonamento al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, lì troverete questo e tanti altri materiali che ovviamente non condividono con voi vari giornalisti, propagandisti, vari finti esperti, vari finti analisti che blatterano qua in occidente della guerra in Ucraina senza avere nessuna neanche approssimativa idea di quello che stanno parlando perché loro semplicemente diffondono la propaganda anglosassone che viene creata appositamente a Londra, a Washington e poi ve la mettono nel vostro cervello con delle iniezioni propagandistiche mentre la realtà oggettiva è totalmente diversa e se volete accedere a questa realtà oggettiva, se volete sapere cosa realmente succede in quei territori ecco il mio canale Telegram è uno dei canali che io vi invito di frequentare. Se volete sostenermi cari amici qua su YouTube io come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale YouTube, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici, inoltre vi ricordo che in tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle, in questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina, se vi interessa questo argomento io vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Carissimi io volevo ringraziarvi per la vostra attenzione, volevo ringraziarvi per il vostro supporto, per i vostri commenti, per le vostre parole, per la condivisione delle vostre idee, delle vostre teorie, per me ogni segno di attenzione da vostra parte è un momento molto prezioso, un fatto molto importante, io vi ringrazio, vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.